3, 2, 1! È il tuo primo giorno, emozionata? Ricordati che non devi dare del tuo, mi raccomando. Che dico quindi? Devi dire altezza reale. Guarda qua. Hashtag predatore. Abbiamo una nuova studentessa in classe. Si chiama Lene. Piacere. Lena! Ciao! È un po' strano essere in classe con te, Calle. Sei carino. Però sei un principe. Ereditaria. Non va lasciato nulla di intentato quando entrano persone in famiglia. Soprattutto con quelle che trascini tu, che hanno cellulari e zero limiti. Sarà un'esperienza tipo Pretty Woman per te. Può essere un'altra c***a. Perché ti sei trasferita? Non basterebbe parlarne col principe. È una vecchia storia. Sei membro ufficiale della tradizione della baita. Sai, sono venuta a dirti di stare lontana da Calle. Quella non l'ho mandata in giro io. Ah, no? Non sai quanto sia stressante quando mandano in giro voci e foto, quando la realtà invece è ben diversa. E si viene a scoprire che la più grande bugiarda sei tu. Ho smesso di vivere una vita normale e di provarci in banno. Tanto vale mostrarsi per quello che siamo veramente. Al diavolo tutte le finzioni. Al prossimo episodio Al prossimo episodio Al prossimo episodio